Questo progetto è nato da sette artisti e un curatore che hanno affrontato a viso aperto il tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Da questo confronto è nata Privata, una mostra itinerante che farà tappa in varie città italiane. Privata è un progetto dinamico e flessibile che nel corso dei mesi vedrà la partecipazione di altri curatori e di altri artisti. Una mostra itinerante ha dei costi elevati per quanto riguarda l'allestimento e il trasporto delle opere. Per questo ti chiediamo di sostenere il nostro progetto e di farlo diventare concreto donando una piccola somma su appela.com. In cambio riceverai shopping bag, libro catalogo della mostra e le nostre t-shirt. E soprattutto fare parte di un progetto culturale, sociale e condiviso. Grazie per la visione!